Buonasera, buonasera, ben ritrovati anche questa puntata di Linea d'Ombra. Da domani riaprono finalmente anche all'interno bar e ristoranti e ci si avvicina in maniera graduale, come ha chiesto il Presidente del Consiglio, sempre di più alla zona bianca e anche alla fine del coprifuoco. Insomma, una vita il più possibile normale. Tutto questo mentre procede la campagna vaccinale. Parliamo di questo questa sera, di aperture di economia, ma anche di vaccini con i nostri esperti via Skype e con gli ospiti in studio. È già arrivato il consigliere regionale della Lega, Riccardo Pase. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti voi. E stiamo aspettando Fabio Pizzul del Partito Democratico. La notizia da cui partiamo è appunto quella delle riaperture, riaperture verso cui il vostro partito ha spinto moltissimo, ma devo dire che ha trovato anche terreno fertile in Draghi perché ha avuto un approccio di gradualità, ma di aperture graduali. Devo dire che anche il Ministro Speranza si è man mano adattato. Ovviamente la campagna vaccinale è stata il motivo principale, perché senza i vaccini non potremmo riaprire. Sì, io credo che sia stato più un approccio ideologico, forse, del Ministro Speranza sulle riaperture, che non concretezza, perché i dati stavano andando nella direzione giusta. Bisogna riaprire, perché bisogna in qualche maniera conviverci. E abbiamo visto che nonostante le riaperture, i dati ogni giorno scendono. Anche oggi i dati sono fondamentalmente crollati, siamo tornati indietro da ottobre dell'anno scorso. Se c'era qualcuno, qualche virologo, che diceva con le riaperture di Draghi, avremmo avuto non dico le terapie intensive piene, però, che la situazione sarebbe ripiombata nel tunnel, insomma, invece proprio non è andata così. Alcuni virologhi mi sembrano i ragazzi al bar il lunedì che parlano della partita del giorno prima. Cioè, si inventano un po', perché in realtà non puoi sbagliare così clamorosamente queste aperture. Sempre metterla nell'aspetto negativo, sempre l'aspetto di pericosità. Bisogna fare attenzione. La campagna vaccinale sta funzionando, sta funzionando benissimo, soprattutto in Lombardia. E per cui se le persone si vaccinano, e c'è un'importante, parliamo di oltre 2.000 persone vaccinate già con la seconda dose, somministrate in regione Lombardia, 6 milioni di dosi. Quindi, naturalmente, questo serve per riaprire. Sono che ha senso a fare i vaccini. E annuncio già da adesso che alle 21.45, a proposito di vaccini, ci collegheremo col professor Pregliasco. Quindi, se avete delle domande da fare sui vaccini, ci sarà lui pronto a rispondere. Eccolo, è arrivato Fabio Pizzolo, lo facciamo entrare in diretta. Che mi piacciono gli ingressi in diretta. Vedete come siamo rispettosi noi. Lui è entrato con la maschera e se la toglie solo da seduto. Perché, nonostante i contagi stiano calando e tutti quanti ci stiamo vaccinando, è giusto continuare a mantenere le precauzioni. Certo, io non sono ancora vaccinato. Io sì, la prima l'ho fatta ieri, lo dico con orgoglio. La prima dose l'ho fatta. Io mi sono prenotato per tempo, ma purtroppo... Va bene, dipende. Quando lo fai? L'umedi prossimo. Va bene, non è tra tanto. No, no, per carità. È tra una settimana. Ci sono tanti trentenni che l'hanno fatto prima di me che trentenni non sono. Beh, è vero che a volte si... Beh, dei quarantenni l'hanno fatto prima di me, quindi è vero questa cosa. Ma tu sei quarantenni. Io sono quarantenni, certo. Grazie Fabio, ti voglio bene. Allora, le riaperture. Vediamo i servizi di Alberto Carreras che ci spiega cosa riapre e come. Da domani un nuovo passo verso la tanto auspicata normalità, ma sempre con estrema cautela. Bar e ristoranti potranno ospitare i clienti anche all'interno dei locali. Secondo stime effettuate da ConfCommercio si parla per Milano di un giro d'affari prossimo ai 100 milioni di euro al mese. Sino ad ora era consentita la somministrazione dei pasti o delle bevande esclusivamente in tavoli all'aperto. Ovviamente non tutti i locali avevano questa disponibilità. Secondo ConfCommercio solo il 50% poteva allestire qualche tavolo sui marciapiedi o nei deor all'aperto e molti erano rimasti chiusi o effettuavano solo l'asporto. In questo caso il giro d'affari era precipitato intorno ai 18 milioni di euro. Dunque da domani per queste attività ci sarà un deciso balzo in avanti. Un importante fattore anche psicologico, poter stare seduti al tavolo in compagnia comunque con i dovuti distanziamenti è un qualcosa che genera ottimismo e fa ben sperare per il futuro. Con il coprifuoco alle 23 ci sono anche esercizi che riescono a effettuare un doppio turno di clientela. Tutti sperano che con il crollo dei contagi dal 14 giugno la Lombardia possa diventare zona bianca e quindi senza coprifuoco. Oggi in zona bianca ci sono Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Le vaccinazioni hanno creato un'atmosfera di maggiore certezza e sicurezza, ovviamente però va tenuta sempre alta la guardia. Il Covid, ricordiamocelo, è ancora presente tra noi. Allora zona bianca dovrebbe scattare, dopo ci colleghiamo con un ristoratore che sta già preparando, credo, il ristorante per domani. Perché già adesso lavorano all'esterno, però insomma chiaramente la capienza, pensate che il giro d'affari passerà da 18 milioni a 100 milioni al mese, solo per Milano, aprendo all'interno i ristoranti e i bar. La zona bianca dovrebbe scattare il 14 Pizzul e questo vorrebbe dire far saltare il coprifuoco se i dati continuano ad essere questi. Credo che i dati ormai ci siano consolidati e che la tendenza sia esattamente quella. Quindi bisogna aspettare il 14 con il via libera per tutte le attività, ma c'è sempre da raccomandare, le precauzioni devono comunque rimanere. Perché ormai ci siamo abituati, mascherina, distanziamento laddove è possibile e necessario e frequente igiene delle mani. Sì, queste abitudini devono restare. Devono restare anche perché guardate, anche la scorsa estate avevamo avuto situazioni in cui si era potuto allentare. Allentare molto, poi abbiamo avuto la sorpresa al rientro. In più quest'anno abbiamo i vaccini che sicuramente sono un aiuto fondamentale, però sempre meglio usare la prudenza fino in fondo. Ecco, dicevamo quando tu ancora non eri arrivato, dicevamo che queste aperture sono state volute fortemente, spinte dalla Lega, Draghi. Ma non solo. Ecco esatto, questo ti volevo chiedere. Il ruolo del tuo Partito Democratico nell'apertura è perché lui diceva che Speranza aveva un approccio ideologico, teniamo chiuso, teniamo chiuso. A me non sembra, nel senso che lui era molto prudente più che ideologico. Guarda che Speranza non è del PD, tra l'altro. Ma il PD stava in una linea mediana tra la prudenza di Speranza e l'apertura della Lega. Anche Speranza diceva guardiamo i dati, guardiamo i dati, guardiamo i dati. Ha avuto ragione perché quando si è potuto allentare il coprifuoco a metà maggio i dati erano sicuramente confortanti. Anche perché quando c'era in atto quel dibattito forte tra apriamo il prima possibile o apriamo quando possibile, perché questa era la differenza, non c'era la certezza di avere tutti i vaccini che erano stati promessi. Siamo partiti a rilento, poi l'AstraZeneca non consegnava. La fase di l'AstraZeneca che aveva promesso la luna, poi in realtà ci ha dato la pallina da tennis fondamentalmente. Certo. Per cui, certo col senno di poi è sempre comodo giudicare, però credo che anche all'interno del governo il fatto di avere due anime che si confrontano e qualcuno che faccia sintesi con l'autorevolezza che attualmente possiamo dare e concedere e riconoscere a Draghi, credo che sia un elemento che nel gioco globale si è potuto gestire. E questo delle due anime c'è anche nel problema del blocco dei licenziamenti, di cui dopo parliamo. Anche se adesso su quello sembrate andare d'accordo voi, perché Salvini ha fatto questa giravolta. L'ultima cosa poi ci colleghiamo con il ristoratore. Pase prima diceva, ricordavamo i virologi che quando sono iniziate le aperture graduali dicevano mamma mia, si riempiranno le terapie intensive, succederà un disastro. Hanno sbagliato? Ma più che hanno sbagliato, il ruolo dei virologi e degli scienziati è quello di indicare quelli che sono i possibili rischi. Loro hanno sempre detto, guardate i rischi ci sono, poi è la politica che deve scegliere. Perché è chiaro che uno scienziato, se gli chiedi cosa dobbiamo fare per far sì che tra due settimane il virus sia a zero, ti risponde chiudere tutto. E' chiaro che poi... Sì, ma nel momento in cui il virus galoppa, nel momento in cui il virus non galoppa... Sì, ma guardate che non è... lo abbiamo visto anche in altri paesi. Guardate la parabola che ha avuto la Sardegna. Bianca, rossa, bianca, è vero che ha concentrazioni di popolazione molto più basse rispetto a una realtà come la Lombarda o quella di altre regioni. Però attenzione, perché è difficile far scendere la curva, è molto facile che la curva si impegni. Adesso ci sono delle condizioni per la stagione, per la diffusione dei vaccini, per la responsabilità dei cittadini migliori, però far scivolare la situazione ci vuole davvero un attimo. Perché i ristoranti sì, ad esempio, e le piscine al chiuso no? Questo è una cosa che avete capito? Perché in realtà nella piscina ci sono anche meno persone di un ristorante. Perché i virologi questa non te la sanno spiegare. Ti dico, non è stata una decisione politica, no? Strano che i virologi scarichano la colpa sui politici. Allora, è vero, ci sono alcune cose che sono incomprensibili. Prima diceva giustamente anche Pizzul, servono i dati, ma i dati poi devono essere supportati, cioè la politica deve essere supportata dai dati, ma se non ci sono i dati perché ci sono delle scelte che sono incomprensibili? Questo è un grosso problema. Poi Pizzul ha detto una cosa che mi fa molto piacere, che il fatto che ci sia una doppia anima nel governo, quindi una parte della Lega, serve per trovare l'equilibrio e fare bene per il Paese. Basta che lo riconosciate anche voi nei nostri confronti. Senza di noi prima non andavamo bene. Beh, allora, c'è da dire che Letta e Salvini sulla questione appunto dei licenziamenti di cui parleremo intorno alle 22, mi sembra che intendano creare questo ponte, questo asse per salvare i posti di lavoro, mentre Italia vive e Forza Italia stanno dall'altra parte. Mi sembra che si sia creato questo asse. Beh, guardate, poi dopo bisogna sempre raccontare, io sono abbastanza colpito dal fatto che i quotidiani debbano sempre mettere l'uno contro l'altro. Se voi andate a vedere i titoli di anche di un giornale tendenzialmente moderato e filo governativo come il Corriere, negli ultimi due anni, un giorno sì, un giorno no, scontro, duello, eccetera. E' perché fa più notizia. E' perché fa più notizia, però. Ma anche io mi diverto di più quando litigate, quando andate d'accordo. Sì, è un modo di raccontare parziale. E' normale. Però guardate, sulle piscine invece sono d'accordo con Pase. Io non capisco. E' una cosa che non ha capito nessuno questa. Non capisco francamente perché. Perché la palestra sì e la piscina no. I dati dicono che la piscina, addirittura il virus in quelle condizioni, col cloro, muore velocemente. Quindi anche questi aspetti, piuttosto di dire non fare la doccia, ci sta alcuni limiti. Sì, ma la palestra è stata aperta il 24 maggio. È stata aperta da un... No, no, sulle piscine è davvero incomprensibile. Anche perché guardate, tra gli impianti sportivi sono quelli che stanno soffrendo di più. E tra l'altro c'è un paradosso che è stato confermato anche da questo governo, ma c'era nel governo precedente. I ristori per le piscine riguardano esclusivamente l'attività commerciale. E in una piscina l'attività commerciale è il... Ma se va bene, bene... Sì, perché fuori dalle piscine c'è questa vetrinetta. No, esatto. Per il resto... Dove vendono due costumi. Tutto il resto è ricavato dai corsi che vengono pagati e gli abbonamenti. E questi nei ristori non ci sono stati. Perché lo diciamo che i corsi e gli abbonamenti sono stati tutti restituiti o voucherizzati. Sì, o voucherizzati. Io ad esempio ho un abbonamento alla piscina. Anch'io. Gli è stato detto, guardate, te lo proroghiamo. A me è stato prorogato. Te lo proroghiamo. Quindi noi abbiamo il diritto di andare un anno dopo senza dargli dei soldi in più. E quindi loro... Però guardate, sono in gravissima crisi e non è detto che riaprano tante piscine. Anche perché sono molto costose. La gestione della piscina è molto costosa. Ma poi non puoi neanche chiudere gli impianti. Perché se tu chiudi gli impianti d'inverno vanno a pallino.